Una cosa carina da dire, tutto quello che si è detto è bellissimo, c'è un aspetto che il professor Novellino ha accennato in una slide che era il flow di una produzione di un ultraceutico a partire da un'idea iniziale. C'è un passo fondamentale che praticamente è il punto critico di tutta la situazione, io ho una cultura che viene chiaramente dal settore più alimentare che farmaceutico, il punto critico è la sicurezza. Noi possiamo ragionare di tutto, funziona, è perfetto, fa crescere i capelli, fa dimagrire, non ne parliamo, pagherei ore, ma se dà un effetto collaterale o se contiene qualcosa che non è di positivo, assolutamente è inadmissibile, non è possibile né eticamente ma sostanzialmente proprio legalmente fare questo. I ultraceutici purtroppo vivono ancora in una zona cosiddetta d'ombra per quanto riguarda la parte legislativa, voi li scoprirete chiamati integratori, botanicals, fitochemicals, non li chiamo come gli pare, quando gli conviene diventano fitochemicals, quando non gli conviene diventano integratori, integratori alimentari, integratori sportivi, perché la normativa è un po' complicata da stabilire, se pensate che addirittura fra noi e gli Stati Uniti abbiamo legislazioni completamente diverse, quello che qui possiamo fare non si può fare negli Stati Uniti e moltissime cose negli Stati Uniti qua non possono essere fatte. Abbiamo però una serie di vantaggi perché noi abbiamo delle produzioni di alta qualità, il piacere di stare qui sotto l'egge della Regione Campania non è sottile, è importantissimo perché la Regione Campania è un territorio che noi ci chiamiamo Campania Felix, poi il nome Campania Felix, a parte il fatto che siamo sorridenti, simpatici e belli quando andiamo fuori ci facciamo sempre riconoscere, dipende anche che noi siamo in un territorio baciato come si dice dal Signore, noi abbiamo il Vesuvio, abbiamo la temperatura giusta, abbiamo il terreno che permette di avere il massimo del rendimento e tutto questo si esprime sotto forma di un maggiore contenuto di prodotti di tipo salutistici, il che significa che la dieta mediterranea non poteva che nascere in Campania Felix, poi qualcuno cerca di scipparcela, allora voi vedrete che abbiamo i calabresi che cercano di dire che è più loro che nostra, adesso ad esempio la cosa strana è che i turchi si stanno impadronendo in maniera globale, quindi per esempio la dieta mediterranea verrà affidata alla Turchia per qualche motivo strano per la gestione. Però i prodotti campani sono prodotti che sono veramente avvocati, devono essere loro la fonte dei prodotti nutraceutici, se non lo sono loro, poi il professor Novedino dopo metterà in chiaro con l'ultima presentazione, ma è naturale, i nostri prodotti sono quelli che dovrebbero rappresentare il non plusulto della dieta mediterranea e da cui può ottenere i nutraceutici migliori. Noi qualche dato ce l'abbiamo, perché abbiamo osservato la parte di sicurezza, quindi il contenuto ad esempio in metalli pesanti, il contenuto in pesticidi, il contenuto in sostanze comunque non desiderate, che nel momento in cui voi producete, quando avete visto quel flow di produzione, c'è una fase che per noi è fondamentale, a noi estrarre micotossine, estrarre pesticidi, estrarre metalli pesanti, è fare nutraceutica nel senso cattivo, cioè io praticamente non faccio altro che applicare le stesse cose, estrarre un principio negativo. Se io per produrre un nutraceutico applico lo stesso tipo di procedimento, avrò praticamente un concentrato di qualcosa che non va bene. Se ho un prodotto di partenza che non è chiaramente sicuro, non posso agire. I nostri prodotti lo sono a livelli chiaramente superiori, quindi noi siamo tranquilli da questo punto di vista, ma la parte di sicurezza dei nutraceutici non può essere considerata superflua. Ogni volta che un prodotto nutraceutico sarà immesso sul mercato, per esempio nel caso del resveratrolo del vino, il paradosso del vino, giusto per raccontare, non esiste, è stato inventato dai sommelier francesi, i francesi stavano soffrendo per la perdita del mercato del loro vino in America, si sono inventate una cosa che non esiste, i medici a cui mi appello sanno benissimo che i francesi muoiono quanto gli italiani, non cambia niente, sono solo stati furbi nel saper vendere un prodotto qual è il loro vino, dicendo che il resveratrolo della casa, ma anche bevendo due bicchieri di vino al giorno, il francese non si poteva salvare rispetto ad esempio a un friulano, che pure berrà quanto un francese, è una questione chiaramente solo di marketing, però il resveratrolo è una molecola importante, ma se il resveratrolo si accompagna ad esempio ad un'uva che è stata trattata in maniera sbagliata, o è stata ad esempio contaminata da una muffa, allora forse non è il caso di utilizzare l'estratto dell'uva per fare il resveratrolo, perché avremo un danno più che un bene, questo per aggiungere qualche altra frase in più. Quindi sempre nel flow della produzione c'è niente da fare, alla fine troverete sempre qualcuno che dirà controllo dei metalli pesanti, controllo delle sostanze che possono avere un qualsiasi rischio, anche i livelli dei principi non possono essere livelli casuali, altrimenti noi non dobbiamo cadere nel mondo dei farmaci, quindi il livello dei principi attivi sarà sempre un livello sotto controllo, perché dobbiamo evitare anche il sopradosaggio, e a volte capita di persone che decidono di incrementare tantissimo il contenuto di vitamine attraverso per esempio dei multiintegratori, dopodiché poi ci sentiamo, i medici ce lo dicono, abbiamo un fegato che chiaramente è come se gli avessero giustamente sparato, anche questo è una cosa importante da considerare. Credo che più o meno abbiamo detto tutto, sono stato nei tempi, ho diritto a dire questo, non ho il peso per fare sport, non voglio fare attività sportiva, mi auguro solamente di avervi fatto vedere la parte non negativa, la parte che è fondamentale, tutto quello che c'è di buono verrà detto ed è stato detto più volte, ma quello che c'è di cattivo, il puparo di sinistra, purtroppo è lui l'anello più forte, se non c'è un controllo dal punto di vista tossicologico, dal punto di vista di sicurezza, nessun prodotto per quanto possa funzionare meravigliosamente potrà essere gestito sul mercato e utilizzato dai consumatori. Finiamo qua, altrimenti qualcuno si arrabbierà. Grazie.